E questo ci riconduce alla definizione di fantastico puro di Todorov. Il fantastico puro è un racconto costruito in maniera talmente perfetta che può esserci sia la spiegazione razionale che quella sovrannaturale. Cosa c'è di meglio? Ma perché dovremmo sapere precisamente si sposarono e vissero felici e contenti che è la balla più assurda che si possa mai dire e che è il finale a cui tutti i lettori agoniano. Allora non è molto meglio se una storia non si sa bene. C'è un finale cosiddetto aperto?